Siamo sempre dentro al grande discorso della montagna, la nuova proposta che Gesù fa ai suoi discepoli, vivere secondo una giustizia superiore. Una giustizia superiore che è fatta non di scrupolosa osservanza, come quella dei farisei e degli scribi, neanche fatta di snobare la legge, osservare fino all'ultimo iota. La giustizia superiore è un compimento, osservare ma per amore, osservare ma per amore di Dio. E qui Gesù, in questo passaggio di oggi, delinea l'uomo di parola, l'uomo d'onore. Chi rifugge da intrighi, pettegolezzi, mormorazioni, tresche, sotterfugi, sentito dire, illazioni, sussurri, segreti. L'uomo, la donna, la persona, leale, aperta, verace, che ispira fiducia del quale potersi fidare. Questa è la proposta di vita che Gesù ci fa. Buona giornata, fratelli e sorelle.